Il partito al governo appoggiato dai militari ha ammesso la sconfitta delle elezioni di ieri, le prime consultazioni elettorali libere dopo 25 anni nei confronti dell'opposizione, ovvero la Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi. In attesa dei risultati ufficiali che dovrebbero arrivare questa sera, secondo il suo portavoce il partito avrebbe conquistato più dell'80% dei voti scrutinati finora nelle regioni densamente popolate del centro del paese. Se i dati venissero confermati, Suu Kyi avrebbe la maggioranza necessaria per formare il governo e diventare premia della Birmania, paese che dall'88 la giunta militare era ribattezzato Myanmar per ragioni etniche. 15 anni passati agli arresti domiciliari, paladina di diritti civili e della democrazia, premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi ha comunque invitato la prudenza prima di festeggiare. Sul tavolo resta però una questione delicata. Il suo partito, per paura di ritorsioni, non ha presentato candidati musulmani e non ha preso le parti della perseguitata minoranza musulmana Rohingya. Migliaia di loro, nuovi boat people, sono costretti a fuggire a bordo di carrette del mare affrontando lunghe odissee nell'oceano indiano.